incontriamo casualmente qui Francesca Prestia che già è stata ospite di LibriDV per interviste salutiamo Riccardo Cristiano che sta in Calabria presidente di LibriDV e Francesca Prestia l'unica cantastorie calabrese femminile donna che ci ha cantato delle storie stupende prese dalla tradizione che io sinceramente per tutto quella che riguardava gli ebrei in Calabria non conoscevo non immaginavo da dove tra l'ispirazione? Da fatti che realmente accadono in Calabria cioè di tutti gli anni gli ebrei di tutto il mondo i rabbini vengono quindi dalle Russia dagli Stati Uniti dal Canada dalla Germania per raccogliere i cedri di Calabria che sono i cedri più belli e più profumati del mondo e quindi ho conosciuto delle persone del Cosentino mi hanno raccontato questa storia che si ripete ormai da centinaia di anni e l'ho voluta trasformare in musica perché la musica imprime il ricordo della storia dei personaggi e in più la può accompagnare il ricordo attraverso il fischiettare il motivo ma oltre alla storia degli ebrei che tornano in Calabria la Calabria è ricca di storie di personaggi importantissimi per la storia dell'umanità e dell'Occidente in modo particolare stasera ho scelto questa poi ho scelto la storia di Nefeli l'utilizzo della lingua calabro greca parlata solo nei paesi della Spromonte e la lingua Arbreche perché in Calabria anche le comunità Arbreche sono numerose e ormai fanno parte della nostra del nostro territorio e sono calabresi a tutti gli effetti e la loro lingua va cantata va mantenuta in vita e io sempre attraverso le mie ballate cerco di dare il mio piccolo contributo sono ballate che ti coinvolgono non soltanto come diciamo vocalista tra virgolette ma suoni anche uno strumento io suono il flauto traverso perché sono diplomata in flauto traverso in più ho fatto cinque anni di composizione e direzione d'orchestra per cui anche gli arrangiamenti li curo io stessa e le parole anche i testi spesso delle ballate li scrivo io sono anche laureata in lettere ahimè mi diverto io lo faccio con con una passione ma anche con tanta ironia e tanta leggerezza tant'è che Venanzio il personaggio ispirato a un racconto di Domenico Dara un grande scrittore calabrese mi fa raccontare l'aspetto anche più ludico più allegro della nostra gente perché concludo così io mi ispiro anche molto agli scrittori calabresi come Cora d'Alvaro Leonida Repaci Mario Lacava Franco Costabile grande poeta per raccontare la storia della contadina Giuditta Levato cito la sua bellissima poesia La rossa nel bicchiere perché si può promuovere la cultura calabrese che è vastissima anche attraverso delle semplici canzoni io provo a fare questo tu sei uno scrigno di cultura come letterata come esperta di lettere essendo appunto laureata in lettere e di musica è un connubio perfetto per far conoscere le tradizioni di un posto non esageriamo comunque mi avvalgo sempre dell'aiuto e della competenza di grandi professori tipo per comporre e scrivere i figli di Askenazza mi ha aiutato il professore e l'antropologo Giovanni Sole e in altre situazioni il professore Domenico Minuto Daniele Macris è professore di latino e greco nell'università di Messina Giuseppe Caridi è professore uno storico sempre dell'università di Messina e di Reggio Calabria cioè dietro di me ci sono sempre anche grandi studiosi perché bisogna anche cantare e contare bene con una certa precisione Francesca Prestia seguita su LibriTV Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.